Collega Fano e Fosso Segliore sul lungomare, è stata inaugurata il 5 febbraio 2011 ed ora, a distanza di quasi 4 anni, verrà completata la parte riguardante l'illuminazione. Entro il mese di maggio, infatti, termineranno i lavori che prevedono l'installazione di 163 luci nei punti di cablaggio già esistenti. Abbiamo eseguito il progetto di completamento perché fortunatamente i plinti già esistevano, quindi la posizione dei pali era già stata prevista dal progetto iniziale e Aset ha curato il completamento dell'illuminazione attraverso un'illuminazione a LED. E a quanto ammonta il costo per le varie operazioni? Dunque, a base d'asta, siamo partiti da un confronto concorrenziale che aveva una base d'asta di circa 130 mila euro e siamo arrivati ad un'assegnazione di circa 100 mila euro. Grazie all'illuminazione verrà salvaguardata l'incolumità di ciclisti e pedoni che, sempre più di frequente, usufruiscono di quel tratto. Di conseguenza potranno essere evitati incidenti anche mortali, come successo a giugno 2012, a causa della scarsa visibilità. Per quanto riguarda le tempistiche? Per avviare le gare abbiamo dovuto attendere il nulla osta di rete ferroviaria italiana, la quale è arrivata la prima decina di febbraio e già dal 15 abbiamo proceduto a le gare. Che modello sono i fari? I fari LED sono di produzione italiana e il modello si chiama Italo. Entro quando verrà consegnata l'opera? Entro maggio contiamo di consegnare l'opera, salvo imprevisti, in corso di affidamento sia della parte di materiale che del montaggio. Invece sulle vicende che hanno visto protagonista in questi giorni la Rincicotti Orciani, la ditta al 100% di proprietà asete e a rischio liquidazione, la Presidente ha risposto così. Io preferisco parlare dei fatti, visto che abbiamo visto i risultati che abbiamo ottenuto grazie all'efficienza e alla professionalità dei dipendenti, abbiamo dimostrato che sappiamo fare bene il nostro lavoro. E quindi piuttosto che le chiacchiere preferisco poi dare delle risposte fattive. Grazie.